Il motivo per cui io sto facendo questo film è perché siete dei pazzi furiosi, mi piace molto come vi approcciate all'arte, ho trovato molto interessante il fatto che non ci fosse un protagonista, l'operazione è molto più complessa, molto più difficile da realizzare, molto più coraggiosa. E l'approccio che avete voi qual è? Oltre al pazzo furioso, coraggioso, eccetera, eccetera, è che vi levate da mezzo, meno dici di te e più dici di te. Io questo in voi l'ho trovato tantissimo e l'ho trovato conferma di questo leggendo la sceneggiatura. Quello che mi piace è che sembra restituisca semplicemente una fotografia della nostra società contemporanea, senza dire giusto, sbagliato, eccetera. Quello che mi accende è che c'è, non c'è rabbia, a me questa è una roba che mi piace un casino, ma c'è molto di più in realtà. E questo è straordinario, è straordinario di chi sa scrivere, secondo me. Quindi bravi.